E mentre qui tutto sta per essere transennato perché la cerimonia di apertura si svolgerà in grande stile come sempre, con tutta la città mobilitata, noi aspettiamo anche il primo film che ci sarà in competizione. È anomalo, è singolare perché si tratta di un film dell'orrore, è un horror zombie e il protagonista, l'artefice di questa nuova creazione, è il grande Jim Jarmusch con una parata di star di caratura internazionale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.